Pagina sportiva ben trovati, anche il nuovo acquisto Simone Bonomi sarà disponibile per la prima partita del Perugia di campionato domenica prossima all'Ossola contro il Varese. Intanto manca ancora l'ufficialità ma l'osservatorio anche su disposizione della prefettura della città lombarda avrebbe disposto la chiusura del settore ospiti, un settore deputato inagibile, non a norma per contenere i tifosi. Non ci sono limitazioni per cui i tifosi del Perugia potrebbero recarsi ugualmente a Varese ed acquistare biglietti in loco in altri settori dello stadio, la cosa sarebbe migliore per gli stessi tifosi del Perugia dato che molti colleghi di Varese ci dicono che la visione da quel settore ospite è praticamente impossibile. Dicevamo di Bonomi che è stato presentato, ne ha approfittato anche per parlare il tecnico dei grifoni pagliari. Poco più di 48 ore mancano alla prima giornata di campionato. Il Perugia partirà per Varese venerdì stesso anticipando così di un giorno la trasferta in terra alla Lombarda. Pagliari ha le idee chiare come ribadito in conferenza stampa, esclusi Ercolano e Delcore dalla lista dei convocati, mentre con tutta probabilità si aggregeranno al gruppo Raimondi e pure il nuovo acquisto Simone Bonomi. L'esterno di sinistra è stato acquistato dal Bari, con i bui e si è centrato la Serie A collezionando 15 presenze. Per Bonomi dopo un campionato stravinto alla grande la voglia di ripetersi subito con la maglia del Perugia. Ho preferito io scegliere una squadra ambiziosa dove si punta a fare un campionato di vertice piuttosto che andare a fare magari campionati dove in Serie B devi lottare fino all'ultimo a salvarti. Non sono al 100% perché a Bari, essendo fuori rosa, mi allenavo, sì, sono sempre allenato, però ero un po' ai margini della squadra. Però valuterò anche il mister e valuteremo insieme le mie condizioni. Sono sincero, in questo momento so di non essere al 100% perché le partite non le fate molte finora. Io penso che abbiamo un buon gruppo da completare e che possiamo fare molto bene, sono molto ottimista. L'anno scorso quando dicevo questo a volte non mi credevo e difficilmente riuscivo a farlo credere a voi. Quest'anno sono convinto perché sono convinto a far bene perché vedo delle persone molto seri, attaccate, con grande voglia. Per essere vista l'ultima partita copilare Uffosino è una squadra molto aggressiva, un 4-4-2 dove corrono tutti e sono molto aggressivi. Ci hanno anche qualità in mezzo al campo, lì davanti. Io penso che noi dobbiamo rispondere con la nostra gattiveria e aggressività, poi vediamo sicuramente una buona squadra. Poi le Neuromaster ci hanno sempre sotto l'aspetto del gruppo qualcosa di più rispetto alle altre.